Ecco i possibili interrogativi che incombono dopo la scoperta del punto di rottura della rete del gas che ha provocato l'esplosione nove morti a Ravanusa. I dettagli! In occasione dell'inizio dell'incidente probatorio a Ravanusa, alla ricerca delle cause e delle eventuali prove di reato che hanno provocato la morte di nove persone, investite da un'esplosione di gas lo scorso 11 dicembre, è stato accolto il suggerimento degli avvocati difensori dei dieci indagati dalla procura di Agrigento, ovvero i vertici regionali e nazionali di Italgas. Loro hanno proposto, dovete procedere con un test di tenuta della condotta, immettendo gas inerte e gas etilico nella tubatura. È una soluzione tecnica che consente di rilevare delle falle. E così è stato. Infatti, ne via Trilussa, teatro della strage, è stato trovato in le punto di rottura, nei pressi dell'abitazione di Pietro Carmina, il professore citato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del messaggio di fine anno, come esempio educativo e morale verso le nuove generazioni. Vorrei ricordare la commovente lettera del professor Pietro Carmina, vittima del recente drammatico crollo di Ravanusa. Professore di filosofia e storia, andando in pensione due anni fa, aveva scritto ai suoi studenti «Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita. Non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose. Caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego, non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare. Faccio mie, con rispetto, queste parole di esortazione così efficaci, che manifestano anche la dedizione dei nostri docenti al loro compito educativo». Sul posto e a lavoro il pool di esperti della Procura Grigentina, coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dall'ingegnere Antonino Barcellona, sono in corso gli scavi e il campionamento delle terre per rilevare composizione del terreno e tracce di metano, a cui presenziano anche i difensori degli indagati con i propri consulenti di parte, così come impone il contraddittorio nell'incidente probatorio, ossia un'operazione non ripetibile e che quindi sarà l'unica del genere prima del dissequestro e la rimozione delle macerie e della rimozione eventuale del corpo di reato, che poi sarà prova cristallizzata e acquisita nel processo. Già il 17 dicembre, a poco meno di una settimana dopo la catastrofe, il procuratore di aggrigento Luigi Patronaggio, appena avviato un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, ipotizzò che l'esplosione e l'inferno di fuoco siano stati la conseguenza di una bolla, una camera di metano, innescata da una casuale scintilla. E il magistrato ha spiegato. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'esplosione e del successivo propagarsi della palla di fuoco e dell'onda d'urto. Si indaga sul come e il perché si sia creata la bolla e perfino sul punto esatto dove la stessa bolla si sia creata, al momento localizzata al di sotto o in adiacenza dell'abitazione del civico numero 65 di via Trilussa. Adesso è emerso il punto di rottura della condotta. Da tale rottura è fuoriuscito il gas che ha alimentato la bolla poi esplosa e se così fosse il punto di rottura sarebbe stato rilevabile nel corso dei controlli precedenti che Italgas ha dichiarato di avere seguito e se fosse accertato che i residenti abbiano informato gli organi competenti della presenza di gas i controlli precedenti avrebbero dovuto essere più accurati e scrupolosi? Ecco gli interrogativi che incombono dopo la scoperta del punto di rottura. Nel frattempo Italgas ha diffuso una nota ufficiale e ha scritto in merito alle notizie relative a dispersioni di gas segnalate nell'abitato di Ravanusa Italgas Reti precisa di avere ricevuto tre segnalazioni riguardanti le vie Calabria, San Francesco e Galileo Galilei A seguito di verifiche per due di esse non sono state rilevate alcune perdite per una terza i tecnici hanno provveduto alla sostituzione di un breve tratto di tubazione di piccolo diametro posto al limite della sede stradale Le segnalazioni sono state tutte verificate ampliando il controllo della rete anche a tutte le vie limitrofe Italgas Reti precisa di avere dislocato un presidio stabile di pronto intervento presso l'abitato di Ravanusa per assicurare un ancor più tempestivo riscontro a eventuali altre segnalazioni